In questo numero di Qui Europa Magazine. Orban apre il semestre ungherese tra le polemiche. Via libera ai dazi sulle auto elettriche cinesi. Un miliardo per i danni da mal tempo in agricoltura. L'Europa sta affrontando una lenta agonia e per questo ha bisogno di un forte cambiamento. L'ha detto il premier ungherese Viktor Orban intervenendo alla plenaria di Strasburgo del Parlamento europeo per illustrare le priorità del semestre di presidenza dell'Unione. Dal Green Deal alla linea da tenere sulla guerra in Ucraina, Orban non ha risparmiato critiche alla Commissione von der Leyen. A legfontosabb, hogy a mi uniónknak változnia kell. A maggiorelnökség a változás hangja és annak katalizátora kíván lenni. A döntéseket az Unió tagállamainak és az intézményének kell meghozniuk nem a maggiorelnökségnek. A maggiorelnökség problémákat vet fel és javaslatokat tess. Az Unió békéje, biztonsága és jólite érdekében. Tra gli europarlamentari italiani, pareri diversi sulle posizioni di Orban. La presidenza Orban non rappresenta minimamente i valori fondanti di questa Unione e di questa istituzione. Non rappresenta i valori democratici, non rappresenta i valori di lotta per i diritti umani, i diritti fondamentali e i diritti civili, perché Orban sta annientando tutto questo all'interno del suo Paese e quindi vedo difficilmente come una sua presidenza possa effettivamente riuscire a tutelare quello che sono i trattati dell'Unione Europea e quello che è il senso stesso dell'Unione Europea. Per cui per noi è assolutamente da contrastare, così come è da contrastare la sua venuta qui, in un Parlamento democratico per una persona che non rispetta le istituzioni democratiche. Ritengo che comunque il modello ungherese andrebbe conosciuto meglio, andrebbe studiato meglio, perché mi sembra sempre che ci sia la propensione a dipingere il governo di Orban con parole, con espressioni molto peggiori rispetto a quella che è la realtà. Abbiamo visto che in Ungheria i tassi di crescita sono dei tassi interessanti, prendono di crescita economica, di crescita demografica, gli imprenditori italiani che si trovano in Ungheria si trovano bene, per cui oggettivamente penso che prima di criticare un modello bisognerebbe conoscerlo. Orban ha preso un'iniziativa che ha un po' mosso lo stagno della diplomazia immobile europea, andando a incontrare alcuni leader globali. Lo ha fatto però con un metodo sbagliato, senza concordare quest'azione, così in un certo senso depotenziandola. Ma al di là di questo, che è comunque un gesto che si muove nella direzione giusta, noi non dimentichiamo lo stato dell'arte dei diritti in Ungheria, a partire dalla corruzione, dalla persecuzione dei giornalisti, per non parlare dei diritti della comunità LGBTQ+. Ecco, quindi aspettiamo Orban con parole dure per il suo modo di immaginare la democrazia e i diritti, un modo che oggi non è coerente con il diritto in tutto il resto dell'Unione. La proposta della Commissione europea di istituire dei dazi sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria dalla Cina ha ottenuto il sostegno degli stati membri dell'Unione. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la conclusione dell'inchiesta anti-sovvenzioni portata avanti da Bruxelles. Parallelamente, l'Unione europea e la Cina continuano a lavorare per arrivare a una soluzione alternativa che sia pienamente compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio. Anche l'Italia si è espressa a favore della linea portata avanti dalla Commissione europea e il governo auspica che il negoziato con la Cina riprenda sia nel formato bilaterale sia presso l'Organizzazione mondiale del commercio. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito il no dell'Italia a ogni ipotesi di guerra commerciale sottolineando come serva a preservare la partnership industriale e commerciale con la Cina in una logica win-win basata sul principio della reciprocità. La Commissione europea ha approvato sulla base delle norme in materia di aiuti di Stato lo stanziamento di un miliardo di euro da parte dell'Italia a sostegno degli agricoltori colpiti da alluvioni e frane nel maggio 2023 in Emilia Romagna, Toscana e Marche. L'obiettivo del fondo è sostenere investimenti volti al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dalle calamità e indennizzare le imprese attive nella produzione agricola primaria e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per i danni subiti. Il regime di aiuti è aperto alle imprese di tutte le dimensioni e resterà in vigore fino al 1 maggio 2027. Secondo la Commissione europea l'aiuto è proporzionato e avrà un'incidenza limitata sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Inoltre produce effetti positivi che superano qualsiasi potenziale distorsione della concorrenza. Grazie per la visione!